Buongiorno a tutti. Ho parlato anche con il suo collega, ho parlato anche con il suo collega. Ma non... Do you think even? Ma non mi ha detto che avevo parlato anche con te, ma non mi piaceva. Ma non mi ha detto che avevo parlato anche con il suo collega. Ma non mi ha detto che avevo parlato anche con il suo collega, ma non mi ha detto che avevo parlato anche con il suo collega. Ho cominciato molto piccolo, ho 7 anni con mio padre. Ho 20 anni che avevo lavorato in mezzo. Io avevo solo il padre in casa, ma ora è la prima cosa possibile. Ora è la più taxa. La mia gondola è 70 anni, prima della bata di mio padre, come questa in venese ha solo 19 anni, è più pesante, più difficile, ma più stabile. A lì, l'altra parte, l'altra parte, è parte del museo, per esempio, a lì, l'altra parte, è una sinagoga, è una sinagoga, è una sinagoga, è una sinagoga più grande. La sinagoga non è grande, è una sinagoga, 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 la 1560. Dari l'altra parte di questa è la parte di venese, dove è la casa più alta, è una 2, 8 floor, ma a volte il 1 floor, come la parte più alta, guardate la parte delle zone, la casa più alta, più alta, ma più alta, è molto alta, è molto alta. Questa è la lunga, l'Italian decorazione come Nipolle Si puoi vedere che la famiglia è fuori in Rostenalda Grazie a tutti Luca, ti piace? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti